secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ci sta il si va bene è giusto che sia così è giusto così è giusto così e come si dice il discorso il discorso e c'è troppo a felicità per il progetto che sto facendo per tenere dei malcontenti dietro non ho non ho assolutamente bisogno di tenere di tenere cosa c'è al di assesso regola numero uno non essere brain dead questa è fondamentale questo proprio per la vita allora regola numero due non curarti mai dove vinto un fight regola numero tre cerca sempre di prendere la posizione migliore che un po si va a ricollegare al non essere brain dead regola numero quattro tieni sempre una mobility nell'inventario sottolineatura bestia 87 regola numero cinque mai pusciare uno in un cespuglio regola numero sei se è passato più di dieci secondi da un fight contro un avversario liva no it vai no it let's fucking go no it xa no it xa ce l'ho raga è questa la run giusta è questa zero mobility peccato perché me lo sarei potuto fare quello peccato raga me lo sarei potuto fare porco cazzo torniamo in no build abbiamo fatto anche un paio di corone che anche questa mattina molto divertente vi è piaciuto ragazzi vi siete divertiti vi siete divertiti andiamo grazie per l'ost nezac grazie per l'ost let's go bene sono contento sono contento due perde le sue qualità ma veramente se vabbè non è che posso prendere 30 litri d'aceto figa cioè 50 euro dietro mamma mia 50 euro sono tanti gli ho detto cioè adesso dai ti ho preso le aste ti prendo anche il piatto dai te ne do 30 e dai portatelo via per 30 ora è da favola gli ho dato giù c'è in 50 euro alla fine perché le aste poi l'ha fatta 120 poi vai buttateli giù buttateli giù buttateli giù basta c'è basta c'è troppo troppo no ho capito dovete speriamo di speriamo c'è dentro nel bus in 2 scusa mio schermo nero io qua non so perché non vedo niente schermo full nero ok allora con v cambio ce l'ho ce l'ho con v la caccia l'ho ora switcho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ho capito tutto oddio la porta merda non c'è la porta allora il nettunazzo l'abbiamo assoldato manca e manca le ferie manca come ciao manca il il secondo come si sta d'inverno in questa stanza e carambola e lo so non vorrei colpire le sfere del dio lo so che non vorrei colpire le sfere del dio e porco 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 però me la tira fuori è però me la tira fuori raga ultima fase carambola ok 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 Grazie a tutti. E' concentrato. Non sono più arrabbiato, sono troppo contento per la batteria. Cancella tutte le arrabbiature. Oggi è il tunazzo. La vedo che non è più in maratona, mi scusi. Se lo fa il torneo in Asia oggi col Punisher. Old style. Il... Comunque ho scritto PC Hunter un preventivo da un mese non rispondo. No, ma PC Hunter non c'è più, eh, Luxu. Devi aspettare... No, no, no. Adesso, ragazzi, a fine agosto vi do... Perfetto. Allora, il nettunazzo l'abbiamo assoldato. Manca... C'è un coglione. C'è un coglione. C'è un coglione. C'è un coglione. Perché... Ma ancora che quelli rosa li puoi perviare, eh? Quelle stelline rosa le puoi perviare. Dai, te la faccio in questa. Vai, vai, vai. Te la faccio. Ce l'ho. Ragazzi, la faccio in questa. No, non so che non gioca, non gioca. Ma che ora rifai adesso l'estate? Sempre sono. Per me l'estate è come se non esistessi. Eccoma, per me. Ma fai tutti i giorni? Easy! 290! Dai, yeah! Let's go! Punto. Pensando. Magari oggi sapete cosa faccio, ragazzi? Oggi stacco alle 18.30 a solito. E comincio a mettere un po' a posto, giù da basso, dove dovrebbe esserci la batteria, in modo che non c'è tutta la merda in giro. Non essendoci tutta la merda in giro, posso poi magari mettere giù un'inquadratura domani e facciamo la pulizia. Ok, bar... Allora, intanto, buongiorno signor Marza, buongiorno. Sempre un piacere sentirla. Il discorso che fa lei è solido. È solido. Cioè, io... Cioè, generalmente, per mettere a rischio la mia vita... Non so chi dovrebbe esserci dall'altra parte, appunto. Io credo che se lei stesse cadendo da un burrone... Eh, sì, mi calo le braga e ti mostro il culo. Sì, lo faccio. Lo faccio, lo faccio. Ed è corretto anche che lei si seghi se io lo stia facendo. Ma non per un discorso di cattiveria, eh. Qua non è... Non ci stiamo... Non ci stiamo... Inemicando. Qui è proprio... Cioè, sì, sei simpatico, giochiamo insieme ogni tanto. Però, cioè, figa, sei adulto e vaccinato. Cristo Dio cerca un attimino anche di gestire e badare a te stesso. Quindi appoggio completamente la sua tesi. L'aspetto per fare qualche cosa insieme, glielo ricordo, eh. Quando ha piacere. Let's go! Easy! Sugami il cazzo, mi slungo! Migliattisto Cosa Lunga e ziccata lei in culo! Let's go! Dentro, cazzo! Sudati di merda! Sudati di merda!